A New York, forte calo del Dow Jones, meno 2,9%, che ha toccato 25.717,74 punti, sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.415,69 punti, in forte calo del 3,60%. In frazionale calo il Nikkei 225, meno 0,65%. Si distingue a piazza affari il settore costruzioni ed esibisce un più 1,26% sul precedente. Brillante rialzo per Trevi, che lievita in modo perpotente, con un guadagno del 5,42%. In Germania, annunciati gli ordini dell'industria, pari a 2,5%. I mercati sono in attesa della produzione industriale della Germania, in previsione domani. I mercati sono in attesa delle scorte di petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.